Lo scorso primo luglio il matrimonio da favola tra Angelica Donati, figlia di Millie Carlucci, e Fabio Borghese, in mezzo a tanti ospiti VIP. C'erano Caroline Smith con suo marito Tonio, Selvaggia Lucarelli col fidanzato Lorenzo Biaggiarelli e Simona Ventura e Giovanni Terzi. E ancora, Lucrezia Lante della Rovere, il manager Matteo Marzotto ed il politico Pierferdinando Casini con la moglie. Un parter di primo piano che però non era stato il momento più seguito della cerimonia. Ad attirare le chiacchiere, infatti, era stata la differenza di età tra marito e moglie, ben 21 anni di età. Una differenza tale da attirare critiche ingenerose e commenti molto sprezzanti ben oltre l'offensivo. Oggettivamente una ragazza così avrebbe potuto puntare meno ai soldi e più all'amore. Essere giovani e freschi non ha prezzo, cominciare un cammino con una persona già vissuta e triste oltre che brutto da vedere. Quando ho visto la differenza di età ho pensato che fosse una follia, poi ho visto chi è lui e tutto ha avuto un senso. Borghese, nato nel 1965, è un discendente della dinastia del Papa Paolo VI, figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio. L'uomo si era precedentemente sposato tempo fa e ha già tre figli. Delle critiche Angelica non sa cosa farsene. Le critiche mi fanno ridere. È vero che tra noi c'è una differenza d'età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto le foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito. Ora ben altro in testa. Vorrebbe presto un figlio da Borghese in attesa del quale sta progettando il viaggio di nozze. Un po', a sorpresa, la coppia ha deciso di aspettare qualche mese per la luna di miele, decidendo insieme di salpare il prossimo settembre.